buonasera allora sono passate le tre ore di levitazione panetti si presentano così e andiamo in tutt'ora sofficissimo è di fatto già steso da solo andiamo a fare adesso come aglittante come dice il nostro amato priore e poi vai di pecorino ok ho una grattata di ok ok andiamo a cambiare l'inquadratura andiamo al forno eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua ancora tre minuti si vede come cresce eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccof ecco처 eccoл eccof 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 intanto quando già la pala è pronta per girare 30 secondi e lo giriamo ecco pronti ecco pronti una libella chiudiamo altri 4 minuti e in questi 4 minuti che la pizza finisce di cuocere noi andiamo a stendere l'altra ritorniamo alla costruzione di prima ok 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 è morbidissimo sembra un palloncino d'acqua ok 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 allora questa invece la faremo come carbonara qua abbiamo il nostro bel guanciale tagliato agli strelli Grazie. Andiamo abbondante, a me il guanciale piace. Ok, credo che è sufficiente. Ok, adesso prendiamo sempre di pecorino. Un pezzico di parmigiano. Non lo diciamo che i puristi non lo vogliono. Ok, questa è pronta. Vediamo a che punto siamo con l'altra. Vediamo che manchino qualcosa come 6 secondi. E la cambiamo. Esatto, perfetto. Quindi cambiamo di nuovo l'impostazione. E' spettacolo. Andiamo a infornare questa. Ok. Vediamo il timer. Vediamo un po' come sta cuciendo. molto bene. Andiamo a dare una sbircetina a quella pizza. Questa là. E' spettacolo. Vediamo com'è sotto. Perfetto. Per girarla sono necessarie ancora 2 minuti e 50. così quasi io mi stendo una perace. Vediamo. Grazie. 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 Ecco, è pronta la carbonara. No, non è pronta, è il momento di girarla. Allora, andiamola a girarla velocemente, così vediamo in condizioni è. Qua si è rimasto attaccato un pochino. E' un pannello. Ok, partiamo con il timer sempre 4 minuti. E torniamo alla mozza veloce. Ah, vabbè. Proviamo a girarmi. E' già no. Ozza da lui. Ok. 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 vediamo anche come forse la rilascia la rilascia la rilascia è stato probabilmente un minuto di troppo sul banco ormai manca pochissimo non vale pochissimo, non cado un minuto non cado un minuto non cado un minuto di troppo non cado un minuto di troppo non cado un minuto di troppo eccoci non cado un minuto un minuto di troppo 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 ok qui abbiamo la pecorino, origano e pepe, qui abbiamo la carbonara e qui abbiamo una veloce, ok io vi lascio perché devo anche continuare con questi, buona cena, buon sabato, buone pizze.